Ciao a tutti, mi chiamo Luigi Cocco e sono titolare insieme a mio fratello dell'azienda Cocco Food. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo sostanzialmente della trasformazione dei prodotti locali, principalmente appunto del pomodoro e di tutte le sue varie lavorazioni. La nostra azienda dà attenzione appunto alla territorialità, quindi lavoriamo esclusivamente prodotti dei nostri campi, del nostro territorio e mettendo appunto tutta l'attenzione e la cura che mettevano le nostre nonne quando appunto facevano la passata fatta in casa. Cerchiamo appunto di mantenere vive quelle che erano le nostre tradizioni, quelli che erano i nostri usi, i nostri costumi e mettendoci appunto tutta la nostra dedizione e la nostra passione. Venite cioè da trovarci a Stornarella per assaggiare le nostre passate, i nostri deliziosi prodotti. Vi aspettiamo! Io sono Grazia e mi occupo dell'ufficio marketing e innovazione della Cocco Food. Come diceva Luigi il nostro obiettivo principale è quello di conservare e attrimandare le tradizionali lavorazioni del nostro territorio, quindi come la passata di pomodoro, infatti la nostra lavorazione è molto artigianale, ma non a parte abbiamo deciso anche di innovare realizzando una linea di pomodori in acqua di mare che sono più attenti alla salute, contengono sali minerali, oligoelementi e meno sodio. Veniteci a trovare! Vi aspettiamo!